Ciao, benvenuto pesci. Pesci, segno dei pesci, ascendente pesci, luna o venere in pesci. Allora, benvenuto da Gold Unicorn Artarot. Ciao pesci, allora andiamo a vedere per te una carta dei sogni e poi facciamo la croce celtica. Ricordati che questo video vale nel momento in cui tu lo guardi. Allora, andiamo anche per te a prendere una carta dei sogni. Vediamo che messaggio hanno da darti queste carte, che cosa accade. Vediamo un po'. Allora, orologio. Qui significa che tu, per esempio, stai aspettando qualcosa da tempo, oppure stai contando il tempo a qualcuno, oppure sei al di là del tempo, come è un po' la tua natura mistica, quindi il tempo non esiste, come è giusto che sia. e andremo a vedere adesso con la croce celtica che cosa ti vogliono dire. Questa carta la teniamo perché servirà per tutto il consulto e ci darà ulteriori spiegazioni su questo orologio, su questo tempo che è venuto. Quindi stai contando chissà forse le ore per qualcosa in cui tu aspiri, essendo tu un segno che ama molto l'aspirazione, l'ispirazione, sei ispirato da qualcosa e non importa quando arriva, vediamo il tuo pianeta è Nettuno, ma anche Giove, soprattutto anticamente. Quindi possono esserci in te due qualità, una magari prevale sull'altra. Allora, il re di coppe, quindi si può dire che tu che ami l'amore, sei un po' innamorato dell'amore, aspetti proprio l'amore. Una persona chissà, vediamo che cosa ci dirà la stesa, quindi una persona romantica come sei tu, una persona che ami o una persona di cui ti vuoi innamorare, vediamo. stai guardando i tuoi tesori interni adesso e stai dicendo li dono solo quando arriverà questa persona o ritornerà questa persona. Nel frattempo io vedo che tu stai creando in mezzo a un bosco le tue magie, mi viene da dire, perché il tuo desiderio in questo momento è proprio un desiderio di stabilità e quindi sì l'amore, sì l'ideale, ma tu vuoi proprio sentire la stabilità, la stabilità con qualcuno. E qui il tempo incomincia a farci capire che cosa voleva dire questa carta, tu stai proprio aspettando, forse da tempo. Qui c'è un'aquila in volo che ti dice che qualcosa davvero sta arrivando, è la notizia che aspettavi, l'amore idealizzato come è nella tua natura, lo aspetti già da tempo, qui siamo sul passato, quindi tu aspetti come dire un po' la meraviglia anche, no? Allora, perché tu vuoi che sia tutto così. In passato, nel tuo passato sentimentale, qui andiamo subito sulle emozioni comunque, qualcuno ti ha un po' offerito o ingannato, vediamo poi di metterci altre carte di capire meglio, però potrebbe essere la stessa persona per cui tu trascendi il tempo e lo spazio, questa persona che ritorna innamorata come tu vuoi, oppure semplicemente nel tuo passato, c'è stata una o più esperienze che ti hanno un po' disincantato e adesso tu vuoi solo quell'amore vero. Io vedo che c'è ancora un po' di sofferenza nel tuo cuore, ma tu quando sei devoto a qualcuno o a qualcosa ti lasci anche, voglio dire, anche alle volte ingannare pur sapendo di essere ingannato, mi viene da dire pesci, perché tu anche riesci, come tutti i segni d'acqua, a vedere lontano, a vedere l'altro, a percepire le sensazioni dell'altro. Forse qualcosa nel tuo passato ti ha deluso, qualcuno ti ha deluso, ma la cosa bella è che tu sei, secondo me, in fiducia qui, col due di bastoni che aspetti, si vede il cielo squarciato con un'aquila che arriva, che è anche la visione, la visione grande dei pesci, la visione oceanica dei pesci, queste acque dei segni che sono molto diverse, abbiamo proprio nei pesci l'oceano, l'immensità, l'idea dell'immensità, il tuo idealismo. Quindi, guarda, tu adesso dici, io voglio questa persona o una persona che abbia queste caratteristiche, mi sono già illuso in passato perché ho idealizzato qualcuno e ne ho pagato e poi le spese, le sofferenze, adesso io voglio che questa persona sia così, sia in apertura con me, sia romantico come me e mi lasci vivere questo ideale, insomma tu cerchi un ideale e o è così oppure non so che cosa vorrai fare, vediamo che cosa ci dice la stesa, no? Tu adesso hai proprio chiaro che vuoi vivere proprio un idiglio, un sogno. E vedi, regina di coppe, re di coppe, guarda, molti di voi secondo me sono già molto innamorati di qualche persona, lo siete già, quindi volete quella persona che magari vi ha deluso. Molte invece sono persone sole che aspettano questo grande amore, per voi è tutto un po' amplificato, voi non aspettate un amore bello, un amore romantico, voi aspettate la massima grandezza e questa è la vostra aspirazione, la massima grandezza, la massima fusione. Forse l'orologio ti dice hai fatto bene ad aspettare oppure aspetta ancora e non perderti, non perdere il focus, aspetta perché se aspetti nel modo giusto e con fede questo amore arriverà. Vediamo come finisce la croce celtica, finisce con anche delle notizie e anche con una persona che arriva che secondo me ha delle caratteristiche che ti dice che non ti può ingannare questa persona. Vediamo un po' che cosa ti dice, vado sempre a scegliere mazza a seconda di quello che vedo, che cosa ti dice un arcangelo o più arcangeli di questo ideale che hai dentro di te, che cosa ti dice di fare, che cosa ti suggerisce per raggiungere questa massima espressione dell'amore? Con stabilità annessa naturalmente, è San D'Alfon, un dono di Dio, come dire l'amore che tu vuoi, che tu aspetti lo devi vivere un po' davvero nel senza tempo, senza spazio, cioè proprio come un dono di Dio, no? San D'Alfon ti dice che gli angeli ti portano dal tuo creatore, apri le braccia per riceverli, no? Quindi come dire, puoi anche pregare San D'Alfon se hai voglia di pregare agli angeli perché lui è un buon tramite, no? Quindi praticamente ti dice che se tu veramente hai fede, continui nella fede, questo tuo desiderio di fusione con l'altro, mi viene da dire, può venire realizzata. Apri le braccia per ricevere, cioè credici veramente, abbi fede. Poi qui ti dice Agnel, l'arcangelo Agnel ti dice, presta attenzione all'influsso della luna sulla tua energia, sulle tue manifestazioni, sfrutta al meglio i cicli lunari. Evidentemente tu d'altronde è la luna influenza anche le acque molto, no? Quindi tu sei, e gli oceani, quindi tu sei un segno d'acqua, quindi secondo me davvero sei influenzato molto dai cicli lunari, no? Quindi evidentemente presta attenzione evidentemente ai cicli della luna, in certi momenti ti sentirai che le cose non si realizzano, in altri sì. Vediamo di prenderne ancora un altro. Armonia nelle relazioni, che è quello che tu veramente vuoi. L'arcangelo Raguel ti dice che gli angeli stanno aprendo il cuore di tutte le persone coinvolte e che i contrasti e i conflitti ora vengono risolti. Quindi cosa ti vengono a dire? Che il tuo amore idealizzato a cui tu aspiri, secondo me, è molto vicino. Avrai dei momenti in cui ci crederai di più e i momenti in cui ci crederai di meno. Vediamo appunto i cicli lunari, però qui questo ideale. Qui parlano poco, poco, quasi niente, anzi niente direi in questa stesa di lavoro. Alle volte certe stese su certi segni sono stati più propensi a parlare di lavoro, qui parlano specificatamente d'amore. Andiamo un po' a vedere che cosa ti dice questa sibilla. Usiamo un po' la sibilla del destino, visto che tu ci credi molto al destino, però poi sei anche un pratico, perché tu sei un idealista, Nettuno, ma è anche Giove, quindi sei poi alla fine una persona che vuole costruire, cioè vuoi stabilità. Ecco, va bene l'ideale perché ti serve a te per lasciarti andare, per accettare, per andare oltre il dolore o per accettare anche il dolore se ne vale la pena. Cioè tu sei uno dei segni che è disposto anche al sacrificio, diciamo, no? Al sacrificio, se però la persona veramente vale la pena. E qui Re di Coppe, Regina di Coppe, dice che sarà molto diverso dall'ultima relazione del passato o dalle ultime cose che sono successe tra te e questa persona, o dall'ultima relazione del passato, che qui tutto è pronto per il tuo amore ideale, no? Quindi il tempo un po' lo decidi anche tu, se vogliamo parlare della prima carta che è uscita, no? Quindi il tempo lo decidi un po' tu, dipende dalla tua fede, dai cicli lunari, mi viene da dire. Allora, vediamo che cosa ci dicono le sibille su questo amore, su questo vostro amore dove c'è anche proprio un nuovo inizio, il desiderio di una relazione. Questa è la carta della crescita, quindi tu vuoi crescere insieme a questa persona, vuoi crescere, vuoi evolverti, vuoi qualcosa di diverso. Qui vuoi anche le tue relazioni sociali, sono molto importanti, hai proprio desiderio di famiglia, di persone intorno a te, quindi soprattutto tu vuoi la stabilità. Di nuovo lo dice questa carta, quindi tu vuoi la stabilità, l'estasi nella stabilità, ecco, è come se tu davvero vivessi un po' in un'altra dimensione come natura, tu pesci, quindi stai secondo me facendo questo lavoro adesso dentro di te. Vuoi amare totalmente come è la tua natura, ma vuoi anche portare questo amore idealizzato forse ai confini, diciamo, quasi dell'impossibile da come tu lo veramente lo desideri, un'unione, una fusione, lo vuoi portare in terra. Quindi vuoi proprio che diventi stabile e forse in questo desiderio di stabilità secondo me tu sei anche disposto a rinunciare a qualche piccolo o esagerato ideale. Quindi l'ideale sì, ma deve essere anche reale, realistico, coi piedi per terra poi, cioè deve avere dimostrazioni, deve darti dimostrazioni, eh, questa persona. Quindi se fino adesso hai ricevuto su questi temi di cui abbiamo appena parlato dell'incostanza, non sarà così andando avanti. Qui d'altronde ti dice in modo chiaro e netto che qui c'è proprio la stabilità che arriva per te, eh, qui col quattro di bastoni anche, no, col papa che rappresenta anche l'unione, l'unione sacra, eh, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Comunque un nuovo inizio su una persona del, con una persona del passato oppure se sei singolo, finalmente non hai aspettato in vano. Mi viene da dirti se sei singolo di non farti, come dire, coinvolgere dalla prima persona che arriva, ma di aspettare il tempo giusto. Perché qui la stabilità è proprio chiara, arriva in modo chiaro. Vediamo che consiglio, mi viene da chiedere questo per te. Vediamo che consiglio ti vogliono dare le carte adesso per, in questa attesa, mi viene da dire già, vivila serenamente questa attesa, ecco, vivila più serenamente possibile, eh, rimani nei tuoi principi, eh. Ecco, qui, infatti, potresti avere degli alti e dei bassi, eh, come i cicli lunari, eh, quindi cerca sempre di comprendere che magari è un momento di sfiducia, però poi rimettiti in linea per avere questo amore o questo ritorno che sia, eh. Allora, qui ti dice che ci sarà proprio una manifestazione fisica, eh, tu vuoi una manifestazione fisica, diciamo, delle tue aspettative. Quindi, in sostanza, cosa ti consiglio consigliano di fare? Di rimanere focalizzato sul tuo stato di benessere quando sei nel pieno dell'ideale che tu vuoi, eh. Allora vedrai che l'universo capirà. L'universo capirà proprio i messaggi che tu gli mandi. Ricordati che l'universo è uno specchio e che se tu mandi messaggi diversi, un giorno ne mandi uno, un giorno ne mandi un altro, l'universo si ferma e da qui il tempo, eh. L'universo si ferma nella manifestazione, non perché l'universo dice adesso sì, adesso no, perché l'universo è il nostro specchio. Quindi se noi ci fermiamo, tutto si ferma. Ci fermiamo nel senso che magari cambiamo le nostre percezioni, intendo, perché poi il movimento è continuo e non c'è mai un vero arrestarsi, eh. Quindi, secondo me, cerca di rimanere alto soprattutto nella fiducia. Rimani alto nel tuo ideale per arrivare a questo. Quindi qui il messaggio che ti vogliono dare queste carte è proprio chiarissimo. Stai in un'attesa serena, sempre costante. Cerca di non avere alti e bassi perché appunto se no tutto si allunga. Tutto ciò che tu speri e che vuoi si allunga. Però guarda, la stesa si è incentrata completamente sull'amore, sulla stabilità dell'amore. Perciò direi che dovresti ritenerti, carissimo pesci, soddisfatto di quello che è arrivato per te. Quindi, carissimi e carissime, io vi ringrazio dell'ascolto e passo al segno successivo. Ciao a tutti.